cioè scusa ma mi fai vedere un tesserino non mi allontano perché i cinghielli sono meno pericolosi delle persone perché io ci sto a due anni che ci cammino accanto e non ho mai visto nessuno fare queste cose quindi mi fa vedere un tesserino gentilmente posso vedere un tesserino l'autorizzazione qualcosa grazie e poi vorrei sapere cosa stai facendo state sparando dei sedativi no e cosa io non lo so che tu stai facendo un pubblico servizio ok